14 caratteristiche delle chiese che si moltiplicano Nonostante speciose affermazioni del contrario, il cristianesimo rimane la fede in più rapida crescita nel mondo di oggi. Tuttavia, la maggior parte dei nuovi discepoli di Gesù non aderiscono ai tipi di chiese che i sociologi e i demografi contano. Coloro che moltiplicano le chiese dei nuovi discepoli in molti paesi hanno rivelato i loro metodi. Piantano molte nuove chiese che hanno i seguenti 14 tratti. Chiese che si moltiplicano 1. Cercano a benedire e formare discepoli di famiglie e unità sociali, piuttosto che individui. Signori, che debbo fare per essere salvato? Ed essi risposero, credi nel Signore Gesù Cristo, e sarai salvato tu e la tua famiglia. 2. Formare e equipaggiare i responsabili naturali all'interno dei gruppi esistenti. Ti ho lasciato a Creta, perché tu metta ordine nelle cose che rimangono da fare, e costituisca degli anziani in ogni città. 3. Focalizzare sull'obbedienza a Gesù, più che un accumulo di conoscenza. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. 4. Formare dei discepoli per la scoperta della Bibbia, guidati da Dio, più che dalla predicazione. Ricevettero la parola con ogni premura, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così. 5. Coltiva la maturità attraverso la preghiera e la testimonianza fruttuosa, piuttosto che acquisendo conoscenza. Lo sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimore in me, e nel quale io dimoro, porta molto frutto. Perché senza di me non potete fare nulla. 6. Incontrarsi nelle case private e nei luoghi pubblici, più che negli edifici dedicati. Ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore. 7. Mantenere meno di 20 partecipanti negli incontri regolari ed interattivi. Quando vi riunite, infatti tutti potete profetizzare a uno a uno, perché tutti imparino e tutti siano incoraggiati. 8. Cercare di moltiplicare le nuove chiese, invece di estenderle a quelle esistenti. Così la chiesa aveva pace ed era edificata. E, camminando nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo, cresceva costantemente di numero. 9. Praticare semplici attività che ogni discepolo può facilitare e riprodurre. Siate miei imitatori. Appunto per questo vi ho mandato Timoteo e gli vi ricorderà come io mi comporto in Cristo Gesù e come insegno dappertutto, in ogni chiesa. 10. Coinvolgere i partecipanti con le materie del Ministero più dei oggetti dipartimentali. Paolo separò i discepoli e insegnava ogni giorno così tutti coloro che abitavano nell'Asia, giudei e greci, udirono la parola del Signore, Gesù. 11. Mirano ad avere diverse nuove generazioni di chiese, non solo chiese femminili. Cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli, che siano capaci di insegnarle anche ad altri. 12. Espandere attraverso le reti relazionali invece di attirare conosciute. Cornelio li stava aspettando e aveva chiamato i suoi parenti e i suoi amici intimi. 13. Dimostrare più stabilità rispetto delle chiese piene di estranei. Salutate quelli di casa Aristobulo. Salutate Erodione, mio parente. Salutate quelli di casa Narcisso che sono nel Signore. 14. Rimangono invisibili alla maggior parte della comunità circostante. Non salutate nessuno per via. In qualunque casa entriate, rimanete in quella stessa casa non passate di casa in casa. 15. Il modo più efficace per evangelizzare un'intera popolazione, è una moltiplicazione continua di nuove chiese. 15. 15. 15. 15.